Sarello Sardi, il ristorante virtuoso, tenuta le tre virtù Scarperia. Un progetto nuovissimo, è iniziato a marzo, quindi abbiamo preso la stella in poco tempo, una soddisfazione ovviamente enorme. È la mia seconda volta, la prima volta nel 2014 e ora la tenuta le tre virtù con il ristorante virtuoso nel 2020. In realtà stavamo in una riunione per organizzare un matrimonio, quindi è stata una telefonata bellissima. Emozionante, sono ancora emozionato, il palco era splendido. Sono contento, l'azienda ha fatto degli sforzi enormi, abbiamo fatto le corse per rendere il ristorante il più all'altezza possibile per questo traguardo. Era un sogno riuscirci il primo anno, fantastico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.